Buonasera a tutti, stasera abbiamo un'unica eccezionale cantante venuta da lontano la nostra mina stasera via bene con quattordici ci hanno suggerito io sono venuta qui e veramente non vorrei, cioè è una cosa abbastanza seria quindi io sono stata pagata, quindi voglio fare una cosa seria quindi cerchiamo di essere seria, ragazza, forza che canzone ci canta stasera? la canterò e se domani e se domani sono per noi stasera mina un applauso, grazie brava, brava, brava grazie adesso vai grazie a tutti Sssh, mettiamo il caso, che stai così, stai con di me, quello che basta, alla tua mette, non ti regalai. Sssh, mettiamo il caso, che stai così, stai con di me, quello che basta, alla tua mette, non ti regalai. Sssh, mettiamo il caso, che stai così, stai con di me, quello che basta, alla tua mette, non ti regalai. Sssh, mettiamo il caso, che stai così, stai con di me. Sssh, mettiamo il caso, che stai così, stai con di me, quello che basta, alla tua mette, non ti regalai. Sssh, mettiamo il caso, che stai con di me, quello che basta, alla tua mette, non ti regalai. Ssh, mettiamo il caso, che stai con di me, quello che basta, alla tua mette. Ssh, mettiamo il caso, che stai con di me, quello che basta, alla tua mette. Ssh, mettiamo il caso, che stai con di me.